Eccoci qua, siamo a Jakarta, uno dei posti magari più interessanti ed economici in cui dormire è questo qua, il Mustica Hotel, hotel e restaurant. E' interessante perché il posto è molto impandante con l'ambiente sicuramente, è un posto anche molto economico, costa 10 euro la notte, via il wifi e vi è anche un centro massaggi a fianco, molto economico. Ecco qua, rimane, prendo anche questa inquadratura per farvi un po' vedere dove rimane il posto, rimane qui di fronte a questo jant. Ok ragazzi, seguite le informazioni su internet per sapere dove è collocato questo posto e anche le altre informazioni interessanti circa i viaggi in Indonesia. Grazie.